ciao sono andrea e sono autobiologo di fiducia in questo video un po particolare in collaborazione con guenda di ron poseidon e ti lascio i suoi link sia youtube che instagram in descrizione dove potrai seguire le sue avventure d'acquariofila volevamo parlarti di dieci cose che forse non conosci o non sai riguardo a beta splendens troverai cinque cose in questo video e 5 invece nel video nel canale di guenda sei pronto iniziamo uno studio del 2017 ha voluto provare a vedere se l'effetto del prozac che è un farmaco antidepressivo aveva un effetto inibitorio nelle capacità aggressive dei beta e principalmente in realtà voleva vedere se cambiava il display che i maschi effettuavano nei confronti del rivale infatti altri studi precedenti avevano notato che tendenzialmente i maschi quando vanno in parata e fanno display appunto nei confronti di altri maschi e quindi con un'aggressività un display aggressivo tendono a mostrare l'occhio destro e quindi lo studio voleva dimostrare se effettivamente l'effetto di questo farmaco non solo andava ad inibire l'aggressività di questi pesci o se andava magari a cambiare la percentuale di maschi che mostravano e andavano in parata quindi con il lato destro e magari se andavano appunto di più col lato sinistro questo studio in realtà ha però un precedente infatti era tutto era nato perché il prozac è un farmaco che non solo viene ampiamente utilizzato in alcune parti del mondo ma che ha uno svantaggio enorme infatti rimane anche nelle acque reflue quindi un paziente che assume prozac e poi va in bagno a fare le sue cose e il farmaco rimane il principio attivo rimane ancora attivo anche una volta espulso dal corpo e rimane attivo anche nell'acqua e quindi si voleva vedere se l'accumulo e il biaccumulare di questo principio attivo nelle acque potesse andare in qualche modo ad influenzare i comportamenti comunque dei pesci e hanno utilizzato come animale modello i betta proprio perché erano già state presentate degli studi e quindi avevamo già una base di dati da utilizzare proprio sull'aggressività lo studio riportato beh innanzitutto lo studio aveva diviso i pesci in due gruppi quelli a cui era sottoposto il farmaco e quelli no e hanno visto che effettivamente i pesci a cui era stato fornito il farmaco risultavano molto più docili e molto più addormentati e meno aggressivi e effettivamente anche il trend con cui mostravano quando andavano imparata era un po cambiato infatti non mostravano solo il lato destro ma anche il lato sinistro e questo studio infatti era stato poi utilizzato come campagna per la sensibilizzazione per cercare di utilizzare o altri farmaci depressivi o comunque di cercare di smaltire al meglio le acque reflue che utilizzavano ovviamente i pazienti che utilizzassero questo farmaco speriamo vediamo effettivamente il problema sussiste con molti altri farmaci non soltanto con il prozac un altro ad esempio è classico ibuprofene e vedremo vedremo è una tematica di cui se ne parla poco speriamo che piano piano si cercherà magari utilizzare dei depuratori più più validi più efficaci nel cercare di ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo di determinati farmaci forse vi sarà capitato di vedere un betta con un determinato colore per poi scoprire dopo qualche giorno che il colore era totalmente diverso in questo caso non si parla di magia ma del gene marble il gene marble è un gene che riesce a modificare l'espressione fenotipica del colore nei pesci infatti è possibile che un betta di colore blu ad esempio dopo qualche giorno diventi meta blu e meta bianco solitamente si basa su due colorazioni una più scura e una più chiara potrebbe essere ad esempio blu e bianco piuttosto che blu e giallo in maniera del tutto casuale dando al pesce una sembianza un po marmorizzata un effetto marmo se vogliamo dirlo in italiano è una caratteristica che a livello commerciale è molto vantaggiosa perché riesce a creare dei betta veramente veramente belli esteticamente però a livello di allevamento non è così vantaggiosa infatti ritornare a un colore solido quindi un colore pure una colorazione solida come si dice in gergo è quasi impossibile questo perché perché il gene marble è una mutazione dominante per cui si andrà a ripresentare anche nelle generazioni successive a livello estetico è veramente bello perché come possedere tantissimi pesci in un solo pesce vi consiglio assolutamente di andare a cercare qualche immagine perché la natura crea veramente dei colori meravigliosi certe volte importantissimo il gene marble si chiama betta marble quando ha due colorazioni da tre colorazioni in poi non è più marble ma presenta altre caratteristiche come ad esempio il koi o il galaxy però ricordatevi marbole è due colori uno scuro e uno chiaro che si esprimono in maniera del tutto casuale e possono variare di giorno in giorno la mutazione marble fu selezionata negli anni 70 da orville gualley un allevatore con una caratteristica un po particolare infatti negli anni 70 orville gualley era un carcerato dell'indiana questo questo carcere questo penitenziario aveva un programma di rieducazione appunto dei detenuti che prevedeva l'allevamento di betta splendens veniva fornito loro tutto il materiale e in quegli anni c'era anche una concezione etica un po diversa infatti betta venivano allevati in queste jar questi barattoli di marmellata e veniva anche loro insegnato come riprodurli come prendersene cura e tutte queste cose e orville era veramente appassionato tant'è che iniziò con le prime riproduzioni e ad un certo punto si accorse della comparsa di una femmina che presentava una mutazione veramente particolare infatti era sia bianca che nera e questa mutazione che egli appunto chiamò marble che vuol dire marmo proprio perché gli ricordava il colore del marmo e gli piaccò a tal punto che cercò di di selezionarla e incrociandola con altri esemplari e fortuna volle che la mutazione marble essendo dominante riuscì ad ottenere fin da subito delle prime generazioni che portavano questo gene e quindi riuscì a fissare questa mutazione e lì iniziò a spargersi la voce la gente anche da fuori aveva sentito che c'era questo detenuto molto bravo e che aveva creato una nuova selezione e tutti la volevano e quindi riuscì in qualche modo a far passare questi pesci fuori dal carcere e iniziò appunto la diffusione dei beta di colorazione marble che sono arrivate ai giorni nostri ovviamente come ben sappiamo e sono tra i pesci ovviamente più apprezzati perché hanno queste la possibilità di avere veramente una grandissima variabilità fenotipica e di colori arriviamo adesso alla nostra questione ovvero qual è la vasca ideale per allevare un betta splendence prima di consigliarvi qualsiasi cosa vi dico di recarvi sul sito del comune per leggere il regolamento per la tutela degli animali questo perché perché in alcuni comuni italiani è vietata la detenzione di pesci in acquari con litraggi inferiori a 30 litri ciò che vi consiglio io è proprio un acquario da 30 litri meglio se sviluppato in lunghezza piuttosto che in altezza questo perché perché il betta essendo un pesce anabantide ha la necessità di risalire in superficie per respirare ossigeno atmosferico per cui se gli procuriamo una colonna d'acqua abbastanza bassa sicuramente farà meno fatica a risalire proprio per questo fatto è importante anche che la vasca abbia un coperchio questo perché perché l'ossigeno che il betta respira deve avere una temperatura molto simile a quella dell'acqua in questo modo con un coperchio riusciamo a creare una sorta di microclima interno e non per ultimo perché il betta è un pesce molto abile a saltare e quindi banalmente potremmo ritrovarcelo sul pavimento e questa cosa sicuramente non ci farà piacere il fondo potrà essere un fondo che più vi piace l'importante è avere colori abbastanza naturali evitiamo per favore il liaino fluo rosa o giallo o verde per favore l'acqua dovrà essere un'acqua di osmosi che poi andrà stabilizzata con alcuni sali appositi e i valori ideali per un betta splendens sono questi l'acquario dovrà essere quanto più piantumato non abbiate paura di abbondare con le piante questo creerà nascondigli e invoglierà il betta a girare per la sua vasca e a crearsi il suo angolino il suo territorio va benissimo anche utilizzare i legni che introducono anche tannini e acidi umici all'interno della vasca che servono per la livrea e anche per le fine del betta vanno molto bene anche le rocce purché non siano calcare quindi mi raccomando abbiate cura di scegliere rocce che non siano assolutamente calcare e neanche troppo spigolose appuntite perché il betta potrebbe banalmente farsi male e sfrangersi le pinne importantissime anche le piante galleggianti che vanno a ricreare una sorta di ombreggiatura alla vasca vi ricordo che il betta è un pesce che non ama moltissimo la luce per cui se riusciamo a creare un ambiente ombreggiato questo gli farà sicuramente piacere importantissimo anche l'utilizzo di catappa e di pignette di ontano queste servono sia per acidificare l'acqua sia per renderla molto più ambrata e introducono a loro volta ancora tannini e acidi umici che servono al betta per quanto riguarda le galleggianti come ho detto prima vi consiglio selvinia natans pistia stratiotes e anche cerato film per ultimi ma non per importanza segnaliamo la presenza di filtro e riscaldatore il termo riscaldatore servirà per garantire una temperatura idonea al betta vi ricordo che il betta splendens è un pesce tropicale per cui deve vivere a temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi mentre il filtro andrà a garantire una sorta di pulizia dell'acqua e della vasca intera il filtro va bene in qualsiasi modo basta che sia un filtraggio sia meccanico che chimico è importantissimo che abbia la possibilità di regolazione del flusso in uscita questo perché perché il betta non ama le acque troppo mosse preferirà un ambiente abbastanza fermo e stagnante quindi se riusciamo a garantire una un'acqua ferma sicuramente a lui farà soltanto che piacere parlando di dragon allevatore che li selezionò per la prima volta ed è un allevatore thailandese che si chiama picit mi raccontò che nel suo allevamento non utilizza la catappa infatti ha notato che a crescere i betta dragon o comunque che portano gene dragon e possono essere ad esempio i samurai o i black mamba o i red mamba che sono tutte comunque selezioni derivate dal dragon e ha notato che in accrescimento se presente la catappa tenderanno ad avere una dragonatura e quindi un spessimento di questo strato che è sopra alle cellule epiteliali molto ridotto oppure più sporco e non un bello cangiante bianco tipico di quelli che vediamo solitamente nelle foto o da allevatori che li fanno da tempo ho provato ad informarmi se effettivamente ci fossero degli studi scientifici a riguardo non ho trovato nulla quindi fidiamoci di quello che ha detto che dice questo allevatore e perché e perché no alla fine è stato lui a scoprire selezionarli quindi prendiamo per buono quello che dice per scoprire altre curiosità ti invito ad andare a vedere il video nel canale di guenda te lo lascio ovviamente qui in descrizione e ti lascio anche tutti gli altri social in cui puoi seguirla lei è veramente brava e molto attiva anche su instagram quindi vai pure a seguirla e grazie e ringrazio anche guenda ovviamente per la partecipazione ciao ci vediamo al prossimo